Alessandra Sardoni da TG La7, la domanda è la stessa in un'altra forma, lei è comunque il candidato premier del centrodestra, quindi vi presenterete a consultazioni eventuali con il suo nome, non con quello di Berlusconi? Innanzitutto mi compiaccio con la dottoressa Sardoni perché vedendola in televisione poco fa l'avevo sentita lamentare del freddo, ora vedo che la temperatura qui si è stabilizzata... All'ingresso fa molto freddo? Sì ma in qualunque ingresso fa freddo, poi dentro no, questo accade ovunque diciamo non solo nel PDA, quindi questo mi rasserena, fatta questa premessa...